Il primo picco di benzene della nuova fase di amministrazione straordinaria dell'Ex Silva è stato registrato il 21 febbraio alle ore 10 dalla centralina dell'Arpa di via Machiavelli ai Tamburi, zona prossima allo stabilimento siderurgico. Il picco registrato è stato di 28,91 microgrammi al metro cubo e supera i limiti fissati a 27 microgrammi al metro cubo. Dati resi noti dall'associazione Peace Link, il presidente Alessandro Marescotti specifica che il superamento dei limiti rappresenta una soglia oltre la quale si registrano effetti avversi sulla salute nelle cavie del laboratorio, come indicato sulla base della letteratura scientifica in California. Questo evento, sottolinea Peace Link, che evidenzia anche la grave incongruenza, è avvenuto per la prima volta sotto la gestione dello stabilimento da parte dello Stato. Poi spiega, il benzene è un composto chimico noto per la sua pericolosità per la salute umana, classificato come cancerogeno, certo, sia dalla letteratura scientifica che dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I dati sono stati elaborati dal software Omiscope e comunicati su Twitter dall'analista dati Antonio Poggi. Peace Link li riprende sollevando gravi preoccupazioni per la salute pubblica e sottolineando l'urgente necessità di misure preventive e correttive per proteggere la popolazione locale dagli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico.